ok corsetta ira leggera perfetto per fare la corsetta ok 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 Sì, non è giù a l'aggare. Sì, non è giù a l'aggare. Grazie a tutti. 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 Non ti piace a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. just... just... ... ... ... ... ... ... ...